Il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, anche noto come referendum sulla Brexit, si è svolto, lo ricorderete tutti, il 23 giugno del 2016 nel Regno Unito e a Gibraltar. Si è trattato di un referendum consultivo non vincolante per verificare il sostegno alla continuazione della permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, come se è concluso questo referendum con un voto favorevole all'uscita dall'Unione Europea con il 51,89% contro il 48,11%. Sostanzialmente ricordiamo anche il quesito al quale bisognava rispondere, restare un membro dell'Unione Europea, ossia remain a member of the European Union o lasciare l'Unione Europea, l'EV, the European Union. Come hanno reagito i mercati economici dopo il risultato del referendum? Sicuramente lo ricorderete. La mattina del 24 giugno parliamo del momento in cui i risultati sono stati annunciati, il cambio della sterlina inglese è crollato in due ore del 10% rispetto al dollaro statunitense. Parliamo del livello più basso dal 1985 e del 7% in meno contro l'euro. Il calo, pensate, da 1,50 dollari, naturalmente parliamo, a 1,37 è stato il più grande movimento di valuta in un periodo di due ore nella storia economica. Potremmo definire la Brexit, così come leggete in sovrimpressione, la lunga infinita storia senza fine, però io ci metto un punto interrogativo per capire se è veramente così. Angelo Ciavarella, ben trovato. Ciao Manuela, grazie per l'invito. Sembrerebbe quasi una favola quella della Brexit, se non fosse che per ora il lieto fine non c'è ancora stato. Tu cosa ricordi di quei momenti? Dobbiamo tornare indietro nel 2016 appunto? Ma più che una, diciamo, una copopera, una telenovela, se questa storia della Brexit comunque dovrebbe terminare stando a grandi colpi di scena a fine 2000 a 2020, il 1 dicembre 2020. Io ricordo che il giorno della Brexit, del referendum, ero fisicamente davanti allo schermo e mentre i mercati equiti, per l'appunto, hanno aperto il giorno dopo, perché chiaramente i risultati sono usciti a borse chiuse, a bocce ferme, il mercato del Forrest, quindi in particolare la sterlina, continuò a tradare perché era un giovedì sera e di conseguenza il Forrest si è aperto 24 hours, qua 5 giorni a settimana e quindi continuò a muoversi e man mano che il mercato avevano chiuso con l'idea di un risultato positivo per l'Unione Europea, ossia che il Regno Unito sarebbe rimasto membro dell'Unione Europea, quando man mano che uscivano, che facevano lo spoglio, i risultati stavano clamorosamente smentendo questa prima idea, i futures, quindi sia i futures dei mercati americani, quindi l'SP5N piuttosto che il Nasdaq, ma soprattutto la sterlina iniziava a crollare in maniera violentissima e come hai sottolineato in due ore, la sterlina veramente si massacrò da 1,51,30%. Anche perché i mercati non avevano scontato la notizia del Live, perché fino a qualche ora prima io stessa ricordo che sono andata a dormire convinta di svegliarmi e di vedere Remain sostanzialmente, quando invece la mattina ho compreso quello che era successo, insomma io stessa ho avuto un crollo ma perché non ce lo si aspettava e quindi i mercati non avevano messo in conto questa possibilità. Guarda, a titolo di più, i mercati anzi erano fortemente convinti che il Remain vincesse di margine abbastanza elevato, tant'è vero che nella chiusura, ricordo ancora, dei mercati sia l'equity europea ma quella americana chiusero tutti sui massimi, scontando di fatto apprezzando una vittoria abbastanza forte del Remain e anche la sterlina che arriva addirittura 1,50 proprio prima della chiusura ai seggi, salvo poi appunto quando iniziarono ad uscire le notizie, in donna non mi parla, tra l'1 e 2 di notte ora locali in Inghilterra, la sterlina iniziava a accusare i colpi, a quel punto quando fu evidente che il Remain avesse pochissime chance di prevalere, ci fu una seconda ondata di vendite violentissime che determinarono un crollo della sterlina e poi la mattina dopo dei mercati equiti che però poi recuperarono subito dopo, dopo qualche giorno, la grande battua d'arresto dovuta alla Brexit. Ricordiamo anche altri cenni storici, Angelo, perché è interessante capire come mai poi nel corso della storia la Gran Bretagna ha deciso di lasciare l'Unione Europea, la comunità europea fu istituita nel 1957, il Regno Unito presentò la sua prima domanda di adesione nel 1961, inizialmente ci fu il veto della Francia, esatto, che non volevano che entrasse e invece poi arrivò il Via Libera, di fatto però saltando un po' di qua e di là però ci mettiamo gli elementi poi in mezzo noi a seconda di quello che ci ricordiamo di questa vicenda. La Gran Bretagna per esempio decise di tenersi la sua moneta, di non aderire all'euro, viene da pensare che in qualche modo un minimo di distanza volesse mantenerla, è così o invece fa parte della storia della Gran Bretagna secondo te anche questa presa di posizione? Sai un po' come diceva anche la Thatcher, gli inglesi in realtà non sono mai fondamentalmente europei, non sono mai sentiti totalmente europei, sono sempre un piede dentro, un piede fuori, ma sai il discorso della non accettazione dell'euro da parte dell'Inghilterra, quindi decidere di rimanere fuori dall'euro è stata una mossa che io sinceramente ho anche capito, ci stava anche perché gli inglesi hanno sempre avuto un grande rispetto quasi nei confronti della valuta di sua maestà alla regina. Detto questo, di fatto l'Inghilterra tramite nel frattempo l'Europa che si è allargata più membri dal 2002, si è allargata molto est, ha avuto modo di avere a che fare, di accedere al più grande di fatto mercato economico mondiale, un mercato economico mondiale che al netto l'Inghilterra, parliamo comunque di circa 500 milioni di persone, quindi di fatto l'Inghilterra esporta, vende i propri prodotti, che fondamentalmente sono servizi, prevalentemente servizi finanziari, il 500% di economia si basa su esportazioni nei confronti dell'Unione Europea, quindi adesso chiaramente dovrà ristabilire una sorta di progettazione, di programma per capire dove andare a compensare questa parte che non esporterà più necessariamente in Unione Europea dopo la Brexit, accordo o non accordo, perché comunque chiaramente non sarà la stessa cosa, e trovare i nuovi mercati. Assolutamente, insomma da quel momento, intendo dire il giorno successivo al referendum, la trafila per arrivare appunto a un accordo con l'Unione Europea è stata infinita, non si è ancora concluso, infatti la dimostrazione è questa, diciamo che le posizioni, le due posizioni che abbiamo avuto di fronte sono state queste, chi ovviamente mostrando il lato euroscettico riteneva che l'uscita dall'Unione Europea fosse più congeniale per la Gran Bretagna, soprattutto sul fronte dell'immigrazione, ma non solo, quindi per gestire meglio le trattative, trattative immigrazione ma anche commerciali, per scrollarsi di dosso quella burocrazia che forse si recepiva dall'Europa, dall'altra parte invece chi ha deciso di rimanere nell'Unione Europea ha ritenuto fin da subito che potesse difendersi meglio la prosperità economica della Gran Bretagna che da sola evidentemente magari potesse fare più fatica a sostenersi, queste erano un po' le due posizioni, poi le motivazioni potevano essere altre, però è sembrato quasi, Angelo, poi arriviamo ai giorni nostri, che subito il giorno successivo alla decisione che è uscita dal referendum ci sia stata una sorta di pentimento, almeno mediaticamente parlando, però lo chiedo a te perché eri più vicino a tutto, è sembrato quasi che anche chi aveva votato per il Live si fosse risvegliato e avesse detto no ma forse ho fatto una cavolatina, è stato così oppure no? È stato solo un po' quello che noi abbiamo recepito dall'estero? Ma guarda, prima di tutto è stato uno shock, un po' per tutti ma per gli inglesi stessi, Cameron chiaramente che era all'epoca il premier del Regno Unito si è dimesso subito dopo l'annuncio della vittoria che lui ha fatto chiaramente campagna per rimanere in Europa, ma è stato talmente scioccante il voto che anche il leader del partito indipendentista inglese Nicol Farage del Lucky Party, secondo me si è reso conto anche lui come ha detto che secondo me nessuno realmente credeva che il Regno Unito avesse le carte, i numeri per uscire il sostegno popolare, quando invece poi effettivamente è uscito addirittura il leader del Lucky Party si è dimesso perché non si aspettava neanche lui e che effettivamente ha delle conseguenze durature, è uno degli atti forse più importanti dal secondo dopo guerra ad oggi che effettua il Regno Unito in termini di pace, di conseguenza la situazione è stata piuttosto come dire toccante per tutti, l'unico forse che ne ha tratto aggiornamento è l'attuale premier, Johnson, ricordo ancora che a marzo prima appunto di arrivare alla votazione del referendum, marzo 2016, quando Cameron gli diede appunto a Johnson la possibilità di andare ministro degli esteri nel governo, lui decide di lasciar perdere e spostò i suoi voti a favore del Leave che poi fu determinante, ricordo ancora era un weekend, Johnson il giorno, la domenica non c'è appunto il suo appoggio al Leave, quindi all'uscita dal Regno Unito, la sterlina il giorno dopo perse automaticamente il 3% perché inizia a spostare i voti, secondo me che poi furono decisivi per la vittoria del Leave durante il referendum. Negoziati quindi difficilissimi, non so se tu trovi un altro aggettivo ma insomma questo forse rende bene l'idea perché è quello più semplice, peraltro questi negoziati che solo forse mediaticamente parlando si sono congelati dopo che la pandemia del coronavirus ha investito tutte le nostre vite, diciamo che la Brexit era uno dei market mover principali, quello con cui si confrontavano i mercati e non solo gli investitori, tutti noi, perché anche l'Europa stessa diceva nel momento in cui la Gran Bretagna esce che cosa succede, bel punto di domanda, però in realtà sono solo stati congelati appunto, sono tornati nella loro difficoltà estrema. Secondo gli analisti, così arriviamo proprio oggi, saranno ancora più difficili paradossalmente in questa ultima fase perché poi ricordiamo che entro il 15 ottobre bisogna trovare l'accordo, anzi Boris Johnson ha detto se entro il 15 ottobre non si trova un accordo noi ce ne andiamo lo stesso, quindi usciamo senza intese. Questo è lo spauracchio più elevato, la paura più elevata che hanno i mercati che non si trovi un accordo. Ma guarda, per quello che concerne, quello che ha detto Johnson non deve dirlo lui, sono i numeri perché se entro il 15 ottobre non si trova un accordo, non c'è tempo fisicamente per i vari parlamenti nazionali per approvare un possibile accordo che deve essere comunque ratificato dai vari parlamenti nazionali e deve entrare in vigore entro il 31 dicembre, di conseguenza è una questione proprio tecnica. Come hai sottolineato tu, io personalmente sono molto, ma molto scettico che si troverà un accordo, ormai non è che i mercati prezzano il no deal perché non lo stanno ancora apprezzando realisticamente, ma qualcuno si sta iniziando a mettere in guardia. La verità è che si parla di un possibile scontro molto forte sul livello del level playing field, dell'accordo a livello generale tra Unione Europea e Regno Unito di non farsi appunto concorrenza sui diritti dei lavoratori, sui diritti all'ambiente, sugli aiuti allo Stato, sull'addirittura sul Nord Irlanda, sul border control, che non ci dovrebbero essere i controlli appunto nel Nord Irlanda, che è stato appunto siglato da Johnson stesso l'anno scorso ottobre, anche lì pare non esserci più accordi. Di conseguenza sono tanti e troppi punti di contrasto, ma punti fondamentali. Certamente se dovessero fare l'accordo o non dovessero, non sarà per la fishery, per la pesca, perché anche là sì, c'è molto scontro, però oggettivamente di pesa lo 0,3% dell'economia è abbastanza rilevante, ma sugli altri topic, gli altri temi, penso che sarà molto, ma molto complesso che possa trovare un accordo. Ecco, questo no deal, eventualmente non abbiamo la sfera di cristallo, ma quando potrebbe essere prezzato dai mercati? Cioè quando i mercati potrebbero mettere veramente in conto che l'accordo non è scontato? Quando mancherà il tempo per poter arrivare a una negoziazione finale? Sappiamo che Boris Johnson ci ha stupito anche la scorsa volta con un accordo trovato veramente l'ultima ora buona, quindi io penso che i mercati iniziano a apprezzarlo quando si arriva verso il metà di ottobre, perché fino allora si pensa che possano comunque essere ancora delle tattiche di negoziazione messe in campo dalle due parti. Tuttavia su alcuni punti fondamentali sarà necessario trovare un accordo preventivo, perché all'ultimo minuto non si può chiaramente trovare accordo su tutto. Stando un po' sulle statistiche, Angelo, mi rendo conto che anche questo è complicato da definire, però sulle statistiche passate di grossi eventi che hanno influito sull'andamento dei mercati, anche banalmente quello che abbiamo ricordato, quello che successe il giorno successivo al referendum, quali sono gli scenari possibili a tuo parere nel caso di no deal soprattutto, perché poi se si trovasse un accordo ovviamente si saprebbe cosa è contemplato e quindi i mercati potrebbero prendere le misure rispetto alle novità dell'uscita effettiva della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Se non dovesse esserci l'accordo, quali potrebbero essere gli scossoni più forti? Sai, il paradosso è che se si dovesse dare un accordo si dovrebbe sapere intorno a metà ottobre, tuttavia i mercati, in particolar modo quelli americani, saranno focalizzati esclusivamente sulle elezioni americane, Trump-Biden, quindi interesserà relativamente poco, secondo me sarà decisamente passare in secondo piano l'accordo. Per Europa evidentemente sarà più importante il topic, tuttavia è chiaro che saranno 6 mili americani a guidare. Vista l'esperienza del 2016, io non credo che adesso i mercati saranno scioccati un possibile no deal. È una cosa che inizieranno ad apprezzare, magari con le prossime settimane, i prossimi incontri, tuttavia non credo che saranno di quegli eventi ex post 23 giugno 2016 che avrà letteralmente colpito, diciamo perché ha sorpreso i mercati. Adesso i mercati è una cosa che sanno che può succedere, mentre all'epoca, come abbiamo sottolineato poco fa, non era assolutamente attesa ai mercati. Beh, il 24 giugno, diciamo che per il 24 giugno 2016 è stato un cigno nero la vittoria del Liv, no? È quel classico cigno nero, verissimo, quello che defino il cigno nero da Nassim Taleb, uno di quegli eventi non prevedibili, non pronosticabili e altamente improbabili. E si è verificato proprio il 24, un po' come il Covid, no? Che è successo, il Covid è un cigno nero perché è successo, nel senso che c'era, ma nessuno aveva capito realmente l'importanza dell'esplosione per quando espose con un altro cigno nero. Ma come il referendum della Brexit, si sapeva che ci sarebbe stato, la gente è andata a votare, ma nessuno aveva scommesso sulla vittoria del Liv. Quindi, vabbè, prima o poi è una fine a questa sera, dovremmo metterlo, un bel punto fermo. Sì, sai, anche Beautiful non finisce, ma pare che la Tenovela Sadella dovrebbe finire questa di la Brexit. Se me la Brexit va a finire. Ma che Beautiful finisce, no? Finisce, penso di sì. Ma finisce anche quella? Non so, non so, credo. Però se finisce Beautiful la Brexit finisce forse. La Brexit il 31 dicembre 2020, comunque vada, si metterà la parola a punto e si andrà avanti. Secondo me è più difficile scommettere che Beautiful finisca, è che la Brexit, quindi i mercati forse sono un po' più certi su quel punto. Angelo Ciavarella, la prossima puntata è l'ora della Brexit. Assolutamente sì, grazie per l'invito e ci vediamo la prossima volta. Grazie, grazie a te Angelo Ciavarella, questo è il nostro spazio informativo di Le Fonti TV. Alla prossima.